ciao alessandro sono davvero contento che per te la risa sia finita perché per me non era neanche mai iniziato tutto è partito da un articolo sul mio parere soggettivo durante un'intervista non un attacco diretto a te per niente quindi ora possiamo parlare di musica bene perché di questo volevo parlare amo la musica vivo di musica da anni tanti tantissimi anni come te tutti e due ne abbiamo viste di cose con certi strepitosi altri più o meno chi se ne frega e questa è la fortuna del nostro lavoro giusto quindi parliamo di noi e della musica ti chiedo scusa in anticipo te l'ho già detto io la musica la vivo e la amo quindi mi perdonerai lo faranno tutti che la risposta te la leggo ho voluto prendermi il mio tempo e fissare la risposta perché la musica merita rispetto e le giuste parole dai partiamo e inizio con il ringraziarti dell'invito ai tuoi fan di smettere di scrivermi sulla mia pagina insulti e commenti pesanti ovvio che questo vale anche per i miei ragazzi e ragazzi stop davvero so che è affetto e ne avete dimostrato tanto ma me la cavo sono quasi 30 anni che sento le stesse critiche su di me ho le spalle talmente larghe che qualsiasi insulto mi scivola addosso senza lasciare effetti collaterali ho dormito sonni tranquilli come sempre ho detto solo quello che penso e quando uno dice quello che pensa può piacere o no ma diventa sempre un motivo di discussione di crescita questo sempre con chiunque tu abbia che fare anche con un bambino anzi spesso di più con un bambino per la musica ho sempre la stessa gioia del bambino anche se ormai sono cresciutello un ragazzo che da 30 anni gioca nella serie a della musica tra successi o insuccessi momenti sì e momenti no tra hit da primi posti e come giustamente dici anche tu alessandro canzoni che credevo avrebbero spaccato e poi non hanno fatto niente oggi ho deciso di giocare sempre in serie a ma di cambiare ruolo non vedo più in me il grande progetto pop come lo immaginavo su di me ai tempi e quindi mi sono messo a fare l'allenatore quindi è nata la mia accademia la pop music school vorrei trasmettere come hai detto tu ideali e vorrei riuscire a trasmettere di fare musica con un certo tipo di approccio e di mentalità ti è piaciuto che parlassi degli articolo 31 ma è molto significante ci sono alcune tra le mie origini dicendo articolo 31 citi un epoca un luogo un come un quando e un con chi esattamente come dire la cassettina di radio dj o le all star o il bomber ma come lo è anche paolo meneguzzi per il suo pubblico siamo brand a cui associo un'epoca i primi amori le sensazioni le emozioni dell'adolescenza insomma storie e carriere diverse ma parallele ma perché diventa importante quell'epoca proprio perché l'hai detto tu gli ideali eravamo ventenni avevamo l'energia e forse anche l'incoscienza di voler dire la nostra e di spaccare il mondo non credo onestamente che tu immaginassi di scatenare questa bufera con il tuo post credo di più che come è ben detto ego riferito tu pensassi di affondarmi con un tuo messaggio e che bastasse ma poi ti sei incontrato con un problema reale che alle persone oggi sta sulla pelle o in gola e che nessuno affronta anche per paura di essere tagliati fuori quando ti ho scritto che mi è piaciuto vedere nella tua canzone contro di me il vecchio jx lo dico seriamente arrabbiato ironico vero mi hai riportato ai vecchi tempi ho sorriso ho apprezzato anche le parole di fuoco usate per puro divertimento e alle quali spero non ci sia nulla di personale se non sfottò stessa cosa che ho fatto io era una battle tu dici che non esistono canzoni a tavolino beh dal mio punto di vista non è assolutamente vero direi che tutto è a tavolino non dobbiamo far credere al pubblico che non sia così attenzione non sto dicendo che non vi sia arte comunque ma comunque il tavolino c'è poi ci sono canzoni a tavolino che hanno arte e altre no o molto poca e te lo documento il pop il per lo più del pop oggi è fatto di canzoni scritte a tavolino con uno schema e gli schemi sono tutti uguali da 60 a 70 anni strofe ritornello strofe ritornello ricalcano ancora l'epoca della nascita del pop yellow submarine dei beatles quello è le canzoni pop potrebbero durare anche due minuti soli in realtà poi c'è chi per allungare ha voluto aggiungere la parte che noi chiamiamo special e quindi oggi non bisogna comunque superare i tre minuti tre minuti e mezzo altrimenti stufi a noi o le radio non ti mettono ecco che con due elementi stiamo già parlando di costruzione a tavolino e non abbiamo ancora iniziato a scrivere che già molte volte si decide il produttore in italia ai tempi con produttori monumentali come celsovalli o fiozzanotti per arrivare per arrivare a oggi che tutti vorrebbero charlie charles o simonetta ma la differenza che una volta li pagavi e potevi averli grandi produttori e affiancarli ai giovani oggi no oggi c'è il privilegio di quelli che fanno parte di un giro o di un certo tipo di popolarità perché anche questi hanno diventano popolari e non lavorano più per rischiare di sputtanarsi con i nuovi talenti nemmeno se li paghi e qui caro alessandro arrivo al punto e tu l'avrai già capito a questo punto dov'è il punto ma lo spiego al pubblico tu dici che non esistono canzoni a tavolino e ti sei offeso a morte ci sta è la tua idea non la mia infatti guarda caso gli autori e i produttori di disco paradise sono gli stessi di due vite di mengoni tango di tananai mon amour di annalisa notti in bianco di blanco crisi di stato di fedez made in italy di erosa chemical quindi di cosa stiamo parlando ce ne sono anche tante altre non l'elenco le potete trovare di pop che non è a tavolino questo pop non è a tavolino certo che a tavolino voglio chiarire una cosa non è che tutte queste cose queste io le considero marchette ma diciamo che il tuo discorso un po troppo romantico sul successo va un po a cadere quindi io non ci trovo nulla di così tremendo nella marchetta se poi ci metti una ricerca d'identità un messaggio nel testo una faccia o una voce importante musicisti importanti tecnici importanti studi importanti beh si somma arte su arte e il progetto diventa di qualità non mi sorprende per niente che dietro un progetto pop ci sia un grosso investimento come c'è stato su di me vai a vedere come e dove è stato fatto vero falso mixato negli studi metropolis di londra con metau che ha vinto i gremi award con lori nil quindi prima di parlare di vero falso il pubblico si dovrebbe un filo informare su cosa ci sia dietro vero falso e comunque avevo 25 anni sì ero priorità warner in america con madonna e allora e allora come dicono gli articolo ma come c'è un grosso investimento su justin bieber o come c'è su miley cyrus dove sta il problema quando poi ascolti il disco senti chi canta come registrato da chi e senti subito i problemi che ci sono invece in un'autoproduzione e capisci cosa significa e dove sta la differenza ed è una grossa differenza e credo tu lo sappia bene per questo lo dico per il pubblico il problema non è la costruzione artistica di un progetto pop il problema è quando ci si avvicina di molto all'intrattenimento che allora si perde l'arte tu dici evviva che non ci sono più i grandi papponi produttori ma allora spiegami perché arriva l'autore o il produttore di fama o famoso di turno e gli si crea una lobby intorno non si ascolta più nessuno e funziona solo quello funziona solo quello che fa quello e qui mi lascia un discorso un po più tecnico l'italia un mercato importante discograficamente ma non così grande da non poter essere manipolato cosa intendo per manipolato intendo che un grosso investitore o qualcuno che ha un grosso potere che crea engagement se si dedica alla musica può riuscire a muovere il flusso e determinare le mode della musica il problema è che quando il produttore non investe con un concetto di pop di qualità perché forse non sa cosa significhi o non viene da quella scuola allora bisogna che glielo spieghiamo chi non ha questo bagaglio di esperienza non lo può immaginare e noi dobbiamo salvaguardarlo perché prima i nostri produttori lo facevano e noi abbiamo imparato che cos'è la qualità e torno al discorso delle autoproduzioni fatte in casa e mixate in casa in due ore con produzione mix e master prodotto finito tu pensi che i colplay fanno un disco in due ore fatto in casa o che il nuovo singolo dei bts lo abbia fatto nella sua cameretta l'amico del cantante guarda che siamo a questi livelli e credo che noi quarantenni cinquantenni dobbiamo aiutare i ragazzi aiutare i giovani e fargli capire incuncargli la mentalità del pop a me spaventa molto che in italia i vertici discografici le radio non ascoltino più la musica che guardino il follower che non sentano le esigenze dei giovani che se ne freghino della qualità che ti dicano non è importante che canti bene l'importante che sia trap che dica parolacce che se ne freghino di chi li ha suonati di come sono stati suonati dove e da chi questo non è amare gli artisti una volta era importante credimi faceva la differenza nel pop perché non si sentiva ma si ascoltava la musica sembra che dobbiamo ridurci noi quarantenni a parlare come parlano i giovani per arrivare ai giovani dai vai prendi cash portavax prendi il mix party dance ma il senso non suona la marchetta il fatto che le autoproduzioni fatte in casa di scarsa qualità diventino uno standard è molto grave non tanto per il pubblico che il pubblico si prende quello che gli dai ma perché il pubblico si perderà un sacco di cose belle di crescita e di sperimentazione fatta da talenti e da talenti giovani questo non fa bene al pop e non fa bene alla musica o al futuro della nostra musica e dei nostri giovani infatti all'estero queste autoproduzioni non esistono se non in rarissimi casi ma non parliamo di pop ci deve essere una selezione quando la scelta viene fatta perché si trova un'idea un talento un fenomeno bisogna che questo sia prodotto con la massima cura affidandogli un team adatto a lui personale per lui e che lavori per lui e solo per lui perché diventi un esempio importante che abbia delle fondamenta con un suono suo riconoscibile dove tutto sia curato deciso e protetto questo è il pop altrimenti sai cosa succede che oggi potrebbe esserci la nuova imagine buttata là in un angolo di youtube e nessuno se ne accorgerebbe per due diversi motivi uno perché chi deve non ascolta più la musica e due perché chi l'ha scritta pensa di poter fare un'autoproduzione e farsela da solo e promuoversela da solo tu vuoi che accada io no per niente io amo la musica per questo faccio l'allenatore per questo ho dedicato sei anni ad un film musicale stars che finalmente uscirà a settembre dopo migliaia e migliaia di ore di sacrificio per questo produco talenti che ogni anno cerco perché amo la musica e sono sicurissimo che la ami anche tu adesso se non fosse che poi mi accusano di ricerca di visibilità ti inviterei alla prima mondiale di stars ma poi sai come sono i social e gli haters ma dato che eri nella cassetta che ascoltavo se vuoi ti mando un link in privato perché è stato bello discutere con te e risvegliare un dibattito che spero che possa smuovere qualcosa quindi un parere tra musicisti è sempre ben accetto ciao alessandro grazie di questo angolo d'estate mi sono divertito ciao alessandro grazie di questo angolo d'estate mi sono divertito